Buon pomeriggio, ben trovati in diretta anche questa settimana con Spazio Salute, oggi per parlarvi di una sindrome particolare perché difficile da riconoscere, una sindrome che si manifesta mentre dormiamo. Stiamo parlando delle apnee notturne e ne parleremo meglio in compagnia del dottor Gianluca Ciliberti, pneumologo di Casa Sollievo della Sofferenza, ben trovato. Buon pomeriggio. Abbiamo detto che è difficile da riconoscere proprio perché appunto si manifesta durante il sonno, ma che cosa sono precisamente le apnee notturne? Le apnee notturne sono delle interruzioni del respiro che si verificano durante il sonno, quindi una mancanza di flusso aereo momentanea che si ripete ciclicamente durante le ore di sonno. Quel paziente di solito effettua ha un'ispirazione profonda, una fase di minima agitazione accompagnata da un micro risveglio. Questo determina una micro frammentazione del sonno, non si riescono a raggiungere tutte le fasi del sonno, a volte prima della fase REM si verifica un'interruzione, quindi il paziente la mattina si ritrova a non aver dormito bene, quindi ad aver avuto un sonno non ristoratore molto frammentato. È una problematica che è poco conosciuta, anche se è abbastanza frequente, si calcola che almeno 2 milioni di persone soffrano di questa sindrome. Per capire l'entità del problema, ad esempio un medico di famiglia con 1.000-1.500 assistiti ha in media dai 50 ai 60 pazienti che presentano questa problematica. Senza saperlo, magari proprio perché è difficile accorgersene. Sì, perché questi pazienti mentre dormono non si accorgono, si accorgono soltanto dei sintomi che riscontrano durante il giorno e spesso non riescono neanche a capire perché. A collegare le due cose, ecco perché al risveglio che cosa succede? Quali sono poi le conseguenze di un sonno disturbato proprio provocato da queste apnee? Spesso ci si sveglia con una cefalea, cefalea mattutina. Poi immaginate di dormire male per tante notti, si perde anche parte della lucidità, si diventa apatici e il sintomo principale è la sonnolenza diurna. Questi pazienti a volte si addormentano nelle sale d'attesa, a volte c'è qualcuno che si addormenta anche al semaforo, tant'è che poi dal 2016 in poi è diventata anche una problematica attenzionata dal Ministero dei Trasporti. Quindi adesso quando un medico di famiglia o il medico monocratico che deve rinnovare le patenti sospetta che un paziente abbia una sonnolenza patologica, quindi che può determinare degli incidenti, attestare il livello e la gravità di questa sonnolenza diurna e trattarla in modo tale che questa patologia trattata possa comunque non determinare un rischio per il paziente e anche per gli altri automobilisti. Quindi una patologia che in qualche modo determina anche una scarsa qualità della vita poi. Allora quanto è importante riconoscerla, soprattutto come si fa a riconoscerla per arrivare poi diciamo ad una visita da uno specialista? Ci sono dei soggetti più a rischio di altri? Di solito è il partner che si accorge della problematica e quindi oltre alla roncopatia cronica, quindi al russamento continuo, il partner si accorge che il proprio compagno interrompe il respiro per poi riprenderlo anche con dei movimenti a volte un po' bruschi e quindi si spaventa, a volte possono anche spaventarsi i partner. Quindi questo collegato alla sintomatologia che abbiamo descritto poc'anzi fa appunto preoccupare queste persone che si rivolgono al pneumologo. La cosa importante è che è una patologia comunque curabile e nei momenti in cui si trova il rimedio, che può essere in casi selezionati chirurgico o altrimenti medico come vedremo, questi pazienti ritrovano una qualità di vita completamente rinnovata e ritrovano delle energie e delle forze che pensavano di aver perso perché finalmente dopo tanto tempo cominciano a riposare bene. Bene, allora noi poi capiremo appunto come si curano queste apnee notturne perché appunto lei giustamente ricordava è comunque una patologia curabile. C'è uno strumento che registra proprio le apnee notturne. È un esame che viene chiamato la polisonnografia. A spiegarci come funziona, di cosa si tratta, soprattutto a cosa serve, è la dottoressa Mariella Grimaldi. Ascoltiamola. Salve e benvenuti a tutti al nostro laboratorio del sonno. E qui eseguiamo, ci dedichiamo per lo studio dei disturbi respiratori del sonno, l'esame di monitoraggio cardiorespiratorio notturno, nel particolare quindi un monitoraggio a sette canali dove rileviamo quindi il flusso aereo, il russamento, la motilità toracica addominale, la rilevazione della posizione del paziente e poi anche monitoraggio della frequenza cardiaca e della saturazione. Questo monitoraggio è un esame non invasivo. Si esegue il letto del paziente, si monta questo apparecchio che studia i disturbi notturni, ovvero rileva le eventuali apnee, quindi l'interruzione del flusso aereo per almeno 10 secondi o lipoapnie, quindi la deficienza dell'atto respiratorio per almeno il 30% durante il respiro notturno. E se viene rilevato con il monitoraggio basale un'alterazione del disturbo del sonno, quindi le apnee, lipoapnie o lipoventilazione, l'indicazione è appunto l'adattamento a un ventilatore, che in genere è un apparecchio che eroga una pressione, nella CPAP quindi abbiamo una pressione continua positiva, invece nella BPAP abbiamo una pressione a due livelli, dipende ovviamente dalla patologia di base. In genere siamo a contatto con degli ammanati che hanno come patologia di base l'obesità morbigena, quindi secondo o terzo grado, che comporta questa istruzione delle vie respiratorie, che vinciamo con appunto il ventilatore che eroga dell'aria. Ovviamente l'adattamento è nell'arco di due o tre giorni, il paziente andrà a casa con la prescrizione di un ventilatore che avrà le caratteristiche di quello utilizzato durante ovviamente l'adattamento in regime ospedaliero e poi sarà controllato il primo controllo a tre mesi dall'inizio della terapia per vedere se beneficia clinicamente, quindi assenza di sonnolenza di urna, di nicturia, soprattutto di apnie e anche eventualmente di disturbi delle gambe e poi anche il fatto della cefalia al risveglio e dopodiché il follow up sarà annualmente salvo complicanze. Bene, questa è la polisonografia, l'adattamento al ventilatore è una delle possibili cure? È una delle possibili cure se escludiamo i pazienti invece candidabili alla chirurgia. Che poi vedremo nella seconda parte di questa puntata. Le apnee sono dovute a un'ostruzione delle alte vie respiratorie, di solito a livello del lipo o del loro faringe e appunto con la ventilazione meccanica si determina un flusso aereo continuo che tiene pervie le vie aeree e quindi evita che il paziente vada in apnea durante la notte. I pazienti maggiormente predisposti sono i pazienti in sovrappeso che hanno un collo taurino, un collo tozzo con dei tessuti molli del cavorale che spesso collabiscono e quindi determinano un restringimento delle alte vie respiratorie. Altre terapie oltre a questa del ventilatore? Il dimagrimento è la cosa fondamentale nei pazienti che non sono candidati alla chirurgia perché dimagrire alcuni dei nostri pazienti riescono a perdere 15-20 kg e riescono anche più a fare a meno del ventilatore. Però anche nella fase del dimagrimento il ventilatore è molto importante perché, cosa che non abbiamo ancora detto, oltre alle apnee, alla qualità del sonno e quindi alla qualità della vita, avere delle apnee induce anche delle problematiche cardiovascolari. Il cuore, anziché quindi andare in stand by durante la notte e recuperare e riposarsi, ci hanno delle fasi di tachicardia che servono proprio a superare queste fasi apnoiche. Quindi i pazienti che non si curano, dopo una certa età, possono avere delle problematiche anche cardiocardiache, non solo respiratorie. Tutte problematiche ovviamente poi interconnesse tra di loro. Abbiamo solo un minuto prima di arrivare alla seconda parte in cui tratteremo l'argomento dal punto di vista della terapia chirurgica. Ci raggiungerà il suo collega, il dottor De Clesia, che ci spiegherà appunto quando poi è possibile intervenire chirurgicamente. In un minuto se ci sono, oltre ovviamente alla necessità di dimagrire, di mantenere un peso forma quanto più preciso, se ci sono altre indicazioni su stili di vita corretti, su accorgimenti che possiamo avere. Il calo ponderare è la cosa fondamentale, perché è proprio il sovrappeso a determinare il russamento delle apnee. Un messaggio che voglio dare è che anche se si chiama C-PAP, questa ventilazione notturna, può sembrare per molti qualcosa di invasivo, di poco comodo durante la notte, la maggior parte dei nostri pazienti dopo la prima fase iniziale di imbarazzo non riescono più a farne a meno, perché è uno strumento, è una terapia che gli cambia completamente la vita e ritornano a fare cose che prima non avrebbero mai pensato di poter fare, perché erano molto apatici e stanchi già a metà della giornata. Bene, noi ringraziamo il dottor Ciliberti per essere stato nostro ospite in questa prima parte. Grazie davvero per il vostro lavoro e restituiamo la linea alla regia per una breve pausa. Continuiamo poi subito dopo a parlare sempre di apnee notturne e dell'intervento chirurgico. A fra poco. E ritorniamo in studio, continuiamo a parlare di apnee notturne. Ci ha raggiunto il dottor Aurelio De Clesi, autorino la linguiatra di Casa Sollevo della Sofferenza. Ben trovato. Grazie. Una puntata multidisciplinare, poi capiremo anche l'importanza di questo termine. Ormai i nostri telespettatori hanno capito che la multidisciplinarità è davvero un elemento fondamentale per una buona medicina. Allora, con lei affronteremo l'aspetto chirurgico, ovvero ci sono dei casi in cui la chirurgia risolve definitivamente il problema delle apnee notturne. Allora, quando è possibile intervenire chirurgicamente? Allora, agaggiandomi al discorso di prima, ci sono dei pazienti in cui la CPAP, cioè il ventilatore notturno, non è ben tollerato. Infatti c'è un tasso di abbandono abbastanza alto in alcuni casi. In questi casi si può operare. Un'altra indicazione è il paziente magro, il paziente giovane, il paziente con una evidente ostruzione delle alte respiratorie a livello nasale o a livello del cavorale, che difficilmente accetta un ventilatore da tenere tutte le notti e quindi interveniamo noi. E' importante però capire cosa operare. E nel discorso multidisciplinare, di cui noi parliamo sempre, è fondamentale che insieme agli pneumologi, ai chirurghi maxilofaciali, agli otorino-laringoiatri, agli odontoiatri, decidiamo qual è il miglior trattamento chirurgico da fare. Si tratta di interventi particolarmente invasivi o sono interventi comunque tranquilli? Allora, la maggior parte sono interventi poco invasivi e negli anni si è visto come la chirurgia, per esempio, transorale, attraverso la bocca quindi, ha superato le chirurgie dall'esterno. Parleremo infatti anche di chirurgia robotica. Gli interventi fondamentali sono quelli sul naso, per respirare meglio col naso, e ancora più importante per l'apnea l'intervento sull'orofaringe, quindi sul cavorale, sulla bocca, e sulle tonsille palatine e sul palatomolle, perché il sito di occlusione delle vie respiratorie di solito è a livello dell'orofaringe, quindi del palatomolle e delle tonsille, e a livello ipofaringe, cioè base linguale, quindi lingua e regione inferiore del faringe. Quindi noi abbiamo tre siti fondamentali che andiamo ad operare, naso, orofaringe, quindi tonsille e palatomolle, e ipofaringe, che è la base linguale. Tre diversi, diciamo, possibili posizionamenti dell'ostruzione, no? Sì, perché fondamentale è capire dove c'è l'ostruzione, cioè dove il paziente si va a collassare, tra virgolette, il tessuto, e quindi non riesce più ad entrare aria perché è chiuso uno di questi tre spazi. Alcune volte sono più sedi, quindi si parla di chirurgia multisede, si può operare il naso e l'orofaringe insieme, o il naso e l'ipofaringe insieme, però è fondamentale capire qual è il sito da operare. Poi capiremo anche che c'è un esame che viene effettuato in casa sollievo della sofferenza, propedeutico all'intervento, mi riallaccio proprio a quello che sta dicendo lei, cioè sull'importanza di quanto sia importante identificare prima dell'intervento il sito sul quale intervenire. Vedremo appunto di cosa si tratta. Prima di lanciare il servizio, una domanda. L'intervento chirurgico è una soluzione definitiva? In casi selezionati, dopo lo studio adeguato con la slip endoscopy che vedremo e dopo la polisonografia, noi abbiamo un intervento che può essere risolutivo nel 90% dei casi. L'importante è che il paziente dopo l'intervento venga seguito, non prenda peso, perché se io per un paziente e poi mi prende 20 kg è normale che poi abbiamo problemi. Quindi nella multidisciplinarità l'intervento chirurgico è associato a una buona dieta e è associato eventualmente a una terapia ventilatoria con la CPAP se la chirurgia non ha avuto il 100% dei risultati. Bene, allora l'abbiamo nominata la slip endoscopy, questo esame che permette appunto di capire dov'è il sito dell'ostruzione, quindi un esame fondamentale prima dell'intervento. Ascoltiamo dal dottor Verzicco, Andrea Verzicco, Odorino Laringoiatra di Casa Soglievo della Sofferenza, che cos'è la slip endoscopy? La slip endoscopy è una metodica diagnostica di secondo livello che ci permette di studiare e stadiare il paziente rongopatico, quindi il paziente che soffre di rongopatia è più che altro di appene ostruttive durante il sonno. È una procedura di bassa invasività che noi eseguiamo in sala operatoria con l'aiuto anche di altri colleghi specialisti in neurologia e anestesia e ci permette di poter valutare in tempo reale e simultaneamente sia l'elettroencefalogramma, il polisonnogramma e la parte endoscopica. Quindi quando il neurologo ci dice che il paziente ha cominciato a andare in sonno chiaramente indotto farmacologicamente ma più possibile vicino a quello fisiologico, noi procediamo alla fase diagnostica che è una procedura endoscopica che ha accesso dalle vie nasali e permette di esaminare tutti i distretti e le vie superiori interessati dalla problematica e chiaramente ci permette, come ho detto prima, in tempo reale e simultaneamente nel corso dell'appenea di valutare qual è il sito ostruttivo. Questo ci permette di poter effettuare una terapia mirata per ogni paziente nel senso che una volta che abbiamo individuato qual è la parte ostruttiva noi possiamo intervenire chirurgicamente su quel problema lì e quindi è una procedura che è fondamentale e propedeutica all'intervento chirurgico per cui noi portiamo tutti i pazienti in sala operatoria dopo che sono stati studiati con questo tipo di esame diagnostico. Bene, un esame molto importante, tra l'altro siete in pochi a farlo. Sì, perché nel centro sud non ci sono molti centri dedicati a questo perché c'è bisogno di avere la sala operatoria, l'anestesista dedicato il neurologo dedicato e la strumentazione dedicata e abbiamo la fortuna di farlo due volte, tre volte al mese e i pazienti stanno arrivando in un grande numero ed è fondamentale per telorizzare, per fare come un lavoro sartoriale sul paziente cioè il paziente viene, si fa questo esame, provochiamo il sonno poi si sveglia e possiamo già dirgli qual è la sua soluzione quindi ogni paziente è un trattamento su misura. Una nuova frontiera, se così la possiamo definire, della chirurgia è la chirurgia robotica alla quale voi ricorrete anche per questo tipo di interventi abbiamo delle immagini che ci fanno davvero capire quanto sia preciso il lavoro ecco qui le vediamo in sovraimpressione anche questo è uno strumento prezioso per voi, no? Sì, in pazienti selezionati, dopo aver fatto la stipendoscopia e in cui c'è una ostruzione a livello della base linguale noi in via poco invasiva, attraverso la bocca, senza aprire la mandibola senza tagliare il collo, riusciamo a ridurre lo spazio ridurre il volume della lingua aumentando lo spazio respiratorio è un intervento affascinante perché il primo operatore, il chirurgo è nel suo mondo separato dal campo operatorio in un mondo tridimensionale e muove delle manopole che poi vanno a muovere i bracci robotici che sono sul paziente che stiamo vedendo proprio qui in... quindi muovendo le manopole nel mio mondo virtuale in 3D io riesco a essere dentro il cavo orale del paziente quindi io è come se fisicamente sono dentro il corpo del paziente e muovendo in maniera a distanza questi bracci riesco a togliere in maniera precisa, precisissima a meno del millimetro il tessuto estuberante della base linguale si fa pure una causticazione, una bruciatura di eventuali sanguinamenti e il paziente non viene tracheotomizzato, non si fa mai la tracheotomia perché grazie al servizio di anestesia con cui abbiamo un'ottima collaborazione portiamo il paziente per 24 ore intubato e poi il giorno dopo lo svegliamo e abbiamo risolto un problema molto grande evitando tracheotomia ed evitando la chip up in quei pazienti che non la sopportano quindi i vantaggi, se capisco bene, sono quelli che riguardano appunto una minore invasività dell'intervento, anche una maggiore precisione sì, perché come abbiamo detto si opera attraverso la bocca quindi una chirurgia transorale super precisa e si evitano incisioni e interventi attraverso il cavo orale attraverso la bocca, attraverso il collo deve essere sempre, come vi ho detto, un intervento su misura quindi non è tanto importante la chirurgia ma è importante cosa fare al paziente e quindi avere una diagnostica precisa spesso noi operiamo il basilingua con la chirurgia robotica e il loro faringe facendo una palatoplastica nello stesso tempo in modo che il paziente risolve due dei siti ostruttivi nello stesso intervento Abbiamo un solo minuto che ci separa alla fine di questo spazio il decorso post-operatorio com'è? Complicato? Semplice? Nel caso della chirurgia robotica abbiamo detto il paziente sta per alcune ore in terapia intensiva quindi sotto controllo assiduo da parte dei rianimatori una volta che viene tolto il tubo di rianimazione viene da noi in reparto nell'arco di due giorni va a casa e avrà un'alimentazione semi-fredda e semi-liquida per qualche giorno in modo da far cicatizzare i tessuti orofaringei e poi si torna una vita normale senza apnea Noi ringraziamo il dottor D'Ecclesia esempio pratico di puntata multidisciplinare di quest'oggi in spazio salute perché davvero è importante il lavoro di squadra nella cura di qualunque tipo di patologia sono tante le professionalità che entrano in gioco Grazie ancora al dottor D'Ecclesia grazie anche ancora al dottor Ciliberti che è stato con noi nella prima parte e grazie come sempre a voi per averci seguito anche oggi noi restituiamo la linea alla regia e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV